La globalizzazione è una parola di cui ci si riempie la bocca, ma in realtà il mondo è tutt'altro che globalizzato. L'unica ricetta per sopravvivere nella globalizzazione è studiare, 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 educazione, 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 scuola, 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 scuola. L'Italia è un paese che è stato penalizzato e beneficiato dalla globalizzazione. Vuoi avere un futuro? Allora è meglio che tu faccia l'idraulico o l'elettricista? Sono Alberto Forchielli e questo è il mio corso sull'economia globale per competenze. Forchielli e questo è il mio corso sull'economia globale per competenze.